foodglory.com trovate il link nella descrizione fateci un salto e buona visione Ben a tutti ragazzi ben ritornati dal vostro gioco siamo arrivati signori oggi con una nuovissima sfida siamo qua da cazzuoli per cercare di battere il record italiano e mondiale ragazzi su chi praticamente riesce a trovare più carte blu quindi tots o toti nel draft ragazzi mi avete detto praticamente un bordello di numeri cioè chi dice che il record sarà fatto italiano di 13 carte chi dice che è 14 chi dice che il mondiale è 15 chi dice che il mondiale è 18 ragazzoni non so quante carte diciamo qual è il record effettivo italiano e il record effettivo mondiale di carte draft ovviamente dei tots o dei toti quindi tutte carte blu però noi ci vogliamo provare a cercare di trovarne il più possibile andiamo nel gettone ci prendiamo un bel modulo che comunque ci può portare parecchie carte ed è proprio questo qui il 3 4 2 1 iniziamo con le carte quindi subito o toti o tozzi signori mi raccomando toti o tozzi ma do tutto tranne che toti o tozzi di mortacci di pippo se abbiamo messi che sinceramente potrà capitare una carta già toti o tozzi e non mi è capitata vediamo qui ok prima carta blu ragazzi qui non stiamo puntando a fare difesa intesa 192 193 no solo carte blu ragazzi solo carte blu eccolo qua salà grandissimo nella serie A signori siamo già a 2 carte siamo già a 3 carte 4 carte 5 milioni di carte milioni di carte ci prendiamo Neymar ci prendiamo Neymar siamo già a 3 signori siamo a 3 ma voglio un po' sfancurizzare con delle riserve dobbiamo cercare di arrivare tantissime carte eccolo qua Maxwell si proceda ancora signori si proceda ancora buono buonaventura siamo già a 5 5 carte e 6 carte signori 6 carte giocherino dai ancora così dai con le mamma mia mamma mia mamma mia che belle 7 carte 8 carte signori madonna fermi tutti madonna fermi tutti dai 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 bello aspetta proseguiamo qua proseguiamo qua signori 9 carte 10 madonna madonna regà madonna me sto a sentire male portiere portiere ragazzi portiere portiere dacci tua difensore dai 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 carte tot dai daccelo daccelo mannaggia la miseria dame le carte blu carte blu le piasse in corpoglio le carte blu siamo rimasti a 2 4 5 6 9 10 10 10 carte 10 carte 10 carte 11 11 carte signori 11 carte centrocampista 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 12 carte 12 12 12 12 12 12 12 porca puttana 12 carte 12 carte dai abbiamo ancora la possibilità 12 12 12 13 13 14 14 14 non so sinceramente quante vado detto 12 ecco non ci ha dato mandatà merini e stanno 12 carte ancora signori 12 carte mese che abbiamo concluso con 12 carte porca miseria 13 Carte, dai almeno a 14 Ci arriviamo? Ah Almeno a 14 Allora ragazzi siamo arrivati a 14 carte Blu, 14 carte blu La prima botta, io mi ripeto non so quanto è il record Però siamo arrivati a 14 Carte blu ragazzi, primo tentativo 14 carte, non so Vi ripeto quanto è In via ufficiale il record che ci sta Di carte, dicono che mondiale 18, dicono che in Italia Era 13 o 14 Non mi ricordo quindi già Stiamo comunque forse nel record Italiano di 14 carte Non so quanto è in via ufficiale, scrivendolo Scrivendolo sotto nei commenti, fatelo sapere che Cercheremo in tutti i modi di batterlo Però già siamo a 14 ragazzi, quindi dobbiamo riprovare A fare più di, almeno 15 Carte, almeno 15, poi se riusciamo ad arrivare A 17, 18, che è il record mondiale Potrebbe essere una cosa veramente di spettacolare Vai, riproviamoci ragazzi, secondo Tentativo, vediamo quante ce ne riescono Ad uscire anche adesso, allora Ci prendiamo il modulo Il modulo Questo, il 433, perché non ci sono moduli molto importanti Comunque Madonna, addirittura una leggenda E vabbè dai, se abbiamo una leggenda Giusto per iniziare Vediamo un pochino Mi servono le carte blu Non iniziare a fare lo steronzo Quindi dammi le carte blu Bene, iniziamo Proprio alla grande, signori Iniziamo alla grande Oh, ok Ce n'ha dato una E vai con l'insigna Poi Seconda, centrocampista Benissimo Grazie Gentilissimo Mi sa che prima ne abbiamo fatte 14 Dovamo festeggiaggiare le 14 che abbiamo fatto Quindi, proseguiamo ancora Bello Guarda, addirittura Modric ci ha dato Addirittura Modric Guarda Alves Guarda i toti che ci sta da Tre carte, signori Ancora tre carte Quattro carte Perfetto Quattro carte Tutti adesso ci stava dando Tutti adesso Ma si è già fermato Quattro carte Portiere No, ma Navas Dammi almeno toz Vaffanculo Va, schippiamo Oh, la madonna Ruffier E, schippiamo Niente Proviamo a schippare, ragazzi E, schippiamo di nuovo Niente Davide Lizza Dammi tranquillamente toz Matuidi Bello del zio Bello del zio Sblem Pagli, signori Siamo a 4, 3, 7 Poco, poco, poco Ancora poco 7, 8 8 E la madonna I card 9 Mamma mia, ragazzi Guarda che ci sta Da, regà Guarda che ci sta Dando Todia, go, go Guarda che roba Oddio, quanto cazzo Stiamo? 4 6 9 10 11 12 13 14 C'è pure Bene Di nuovo 14 Carte Doze Che roba Che roba Qui, perché purtroppo Non posso neanche Punta a fare Il 191 Quello che sia Perché non mi interessa Però siamo di nuovo 14 Serviva una carta Per andare a 15 Bastardi Guarda che Guardi i toti Guardi i toti Che c'è andato Regà, mamma mia Questo, dai Ci prendiamo questo qua Ragazzi Vediamo un po' Quanti riusciamo a fare Ne abbiamo fatti 14 Vediamo di puntare A farne qualcosa Di più Allora, questi Su tutti i giocatori Mi possono uscire Tozzo e cose varie Anche Motrici Mi può usci i toti Prendiamoci Quadrato Ci prendiamo quadrato Che gli altri Mi possono tutti Usci i tozzo Quindi vediamo un po' Ok Funes Mori Ci prendiamo il primo Andiamo con il secondo Ma salava Dammelo Salatoz No Dammelo Salatoz Vaffanculo Dai con Ronaldo Almeno Niente Niente Ci prendiamo Gervigno Che tanto Dai Iniziamo Se schippiamoci Da qualche tozzo Ecco Appunto Finito Menniamoci Gli aiature Gli aiature Perché gli altri Mi possono sempre uscire Ok Smalling Siamo a tre tozzo Vaffanculo Ci prendiamo pepe Tre tozzo Signori Eccoli qua Quattro tozzo Dai pure col portiere Cinque tozzo Con buffone Bene 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 Cinque tozzo Schippiamo ancora Vai Sei Sette E basta Sette Ci prendiamo Motta Sette tozzo Eccoli qua Otto Eccolo Ronaldo Vedi Nove Dai regà Dai 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 Dieci Dai Undici commessi Madonna mia Dodici Tredici Oddio ti prego Quattordici Buone regà Un altro almeno Un altro Ti prego Un altro Quindici 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 tozze Regà Quindici tozze Quindici carte blu Dentro lo stesso Draft Quindici Fottutissime Carte blu Regà Regà ci voglio provare L'ultima volta Vediamo se ci dice bene Arrivare almeno a sedici Comunque siamo a quindici Carte blu Tutte nello stesso draft Emo non so Il record italiano Probabilmente l'abbiamo battuto Oppure proprio Il record italiano Non mi ricordo Però mi hai detto Che il record mondiale Dovrebbe essere sui diciotto Quindi vediamo un po' Comunque qua sotto nei commenti Iscrivetemi Qual è il record Che c'è attualmente In Italia Oppure se proprio L'ho fatto io adesso Che è il record Di quindici carte blu Nello stesso draft E ditemi qual è il record Che c'è mondiale Delle carte blu Sempre nel draft Speriamo bene di farcela Dai l'ultima volta ragazzi L'ultima volta Vediamo un po' Abbiamo fatto quindici carte Proviamo a farne sedici Magari ci riusciamo Magari ci riusciamo A farne sedici Qui non ci stanno Moduli buoni Solo questo qui E quello interessante Però due attaccanti Allora Partiamo bene con insigne Dai forse e coraggio Forse e coraggio Prima carta toz Prima carta toz No Alla Bao mi yang Ci può capitare In tutti i modi Strani Griezma pure Sciurle no Quindi prendiamoci sciurle E diamo l'opportunità Di prendere altri toz Eccolo qua un altro Bello Ci abbiamo la casetta Proprio C'è una data di tre Dei figli La qua Poteva darmene separate Che è meglio Due carte blu Signori Ma dammelo salata Dammelo salata toz Ci prendiamo cutigno Che tanto non ci serve Ancazzo Dai con Ronaldo Più che altro Era Messi Non Ronaldo Vabbè ci abbiamo Alvarez Che cacchio è Due carte solamente Per il momento Due carte Tre carte Signori Perfetto Continuiamo 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 Dammela sta carta Dammela Difensori Dai che c'è sta Godin Che non si sta a far vedere Per niente C'è sta Godin C'è sta Ramos Dai Underfield Benissimo Siamo a 4 Siamo a 5 6 Guarda che roba Mamma mia Siamo a 5 Adesso un bel portiere Un bel portiere Buono De che Guardate ce ne ha dati De becca 6 carte 6 carte 6 carte 6 carte 6 carte Si punta ancora Si punta ancora Portacci tua Ronaldo e Messi Ronaldo e Messi Va bene Qua Fran Ronaldo e Messi Signori Ok Buono Quante cazzo stiamo 3 6 8 8 carte Ragazzi 8 carte 8 carte 9 carte 9 carte Lo skip Eh che te pare Abbiamo 6 Mertens 9 carte Skip Oh Ronaldo 10 carte Dai 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 10 carte Danca Troia Porca trota 10 carte Non va Già non possiamo più battere Quello che dobbiamo fare noi Dai Ci sta andando in colonna Ma dammelo Toz 10 carte 11 Tiè Adiettura quello verde 11 12 carte Niente Vabbè Ce l'abbiamo provato Ragazzi Facciolo così Il video di oggi Può tenere qua Io ovviamente Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando Un bel pollice in su Abbiamo fatto Un nostro record personale Che intanto è 15 carte blu Nello stesso draft Mi dovete far sapere Gentilmente qua sotto Nei commenti Qual è appunto il record Che c'è Se l'ho fatto io Con 15 carte adesso Oppure se c'è ancora Da superare qualche record Italiano Perché mondiale Non so di preciso Vi ripeto quanto è Quindi fatemi sapere qua sotto Tutti quante le informazioni Proveremo di nuovo Semmai a battere Anche il nostro Che è di 15 Proviamo a fare 16 17 18 20 25 31 Non lo so Ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Tutti i social in descrizione Come Instagram Paggia Facebook Tutto quello che prepara Voi Instant Gaming Lo shop online Chi più ne metta E ragazzoli Passate anche Al video delle 14 Dove vi faccio vedere Il tatuaggio Ragazzoli Che sarei molto interessati Vi faccio sapere più che altro Che cosa ho fatto E cosa sto facendo Quindi mi raccomando Passate nel video delle 14 Ci vediamo domani Sempre 14.19 Non mancate Bella signori Non mancate Non mancate Non mancate